è nata con con Matteo Brici Stavo pensando a te che è diventato culto cioè una di quelle cose noi su Instagram abbiamo messo il box e la metà delle domande chiedegli la cover, chiedegli Stavo pensando a te quella è stata una cosa gigante cioè è diventata una cosa enorme ed è nata in realtà da una situazione estremamente semplice, promossa una cosa molto bella però dico, non pensavo che sarebbe diventata così tanto grande perché era un video cioè la cosa era, dobbiamo fare questo video per questo format bellissimo di Rock It che era i notturni di Rock It che era bellissimo e abbiamo detto che figo, facciamo questo video bello in bianco e nero in cui suoniamo live e pensavo che fosse un bellissimo video e basta e poi invece è diventato un pezzo e che la gente si è sentita alla vecchia maniera degli anni 2010 su YouTube e poi